...è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi avremo ospite nella seconda parte lo psichiatra Maurizio Devanna. Nella prima parte siamo in compagnia di Ugo Lupatelli che è componente del Lions Club Trieste Host, non il presidente, specifichiamolo. Abbiamo un anno solo. Ah già è vero. Possiamo la mano di anno in anno. Qui sarebbe un past president allora. E poi Andrea Binetti che non ha bisogno di presentazioni. Insomma era un po' di tempo che non ci vedevamo. Sì è vero. Sono molto contento di ritrovarti. Di ritrovarti con i nostri ospiti parliamo di Applausi al 2024, lo spettacolo di Capodanno con rinfresco di mezzanotte. Giova, come dire, aggiungere anche questo dato. Assolutamente. Che è in programma il 31 di dicembre a partire dalle ore 21 e 30 al Teatro Miela. Sono già 16 edizioni no? 16 edizioni. Abbiamo iniziato con applausi del 2008 al Teatro Bobbio. E al Teatro Bobbio sono stati dieci anni. Il motivo principale che ci ha spinto nel 2007 a proporre questa cosa è che Trieste è una città che ama il teatro. I triestini amano andare a teatro. Però in quell'occasione, nel 2007, non era possibile festeggiare l'ultimo dell'anno a teatro. Non c'erano iniziative. Quindi abbiamo pensato di donare alla città, se vogliamo, un'opportunità di festeggiare il 31 dicembre a teatro, l'arrivo dell'anno nuovo. Pensando anche che potesse essere un'attrazione turistica, se vogliamo, un qualcosina in più che Trieste aggiungeva. L'altra motivazione, altre due ne abbiamo almeno, è che comunque le feste molte volte acquiscono anche quei sensi di solitudine, un po' delle persone che non hanno amicizie e quant'altro. Ecco, noi abbiamo puntato anche a quello. Cioè il fatto di festeggiare insieme il 31 dicembre persone sole, coppie, anche gruppi di amici, quant'altro, che poi hanno molto piacere, proprio per il motivo del rinfresco è fondamentale, perché a mezzanotte con gli artisti, Andrea in questo è maestro, e si brinda insieme, si scambia gli auguri. Ma là poi lo spettacolo continua, anche se vogliamo, perché insomma... Da quello riprende, quindi, però le persone si trovano molto... No, no, ma dico anche a parlare con loro, eccetera, poi loro sono tutti quanti adesso, insomma, io... Siamo andando in casa, ma siamo disponibili... In famiglie? Come? In famiglie ormai, no? Sì, ormai poi, insomma, adesso non perché siano amici, ma insomma, è poi piacevolissimo. Quindi questo ci ha portato... Poi per dieci anni siamo rimasti gli unici a... Ecco, quella della vostra fu un'intuizione in quegli anni, perché non c'erano appunto, come lei ha detto, iniziative di questo genere. Avendo visto in altre città, Roma e quant'altro, questa iniziativa, abbiamo deciso di portarla anche a Trieste. E quindi dieci anni siamo rimasti solo noi, poi ovviamente, evidentemente l'iniziativa è piaciuta e quindi quest'anno siamo in... Ce ne sono abbastanza. Abbastanza. Poi la vostra ha anche un carattere particolare, insomma, non so se... Sì, il ricavato della manifestazione, come abbiamo fatto ogni anno, lo dedichiamo a un intervento di tipo umanitario. Negli ultimi anni ci siamo mostri in favore dell'Unione Italiana Cecchi, abbiamo sostenuto ad esempio il cambio di computer della segreteria, il progetto del bastone elettronico Letty Smart, che è andato molto bene, in maniera eccezionale, se mi è consentito, devo dire che un progetto nato da un nostro socio appartenente all'Unione Italiana Cecchi, qualche settimana fa, a livello nazionale, l'Unione Italiana Cecchi lo ha adottato e abbiamo siglato un accordo con il Lions di tutta Italia e il bastone Letty Smart progettato qua a Trieste con il contributo nostro diventa la soluzione nazionale e questo ci riempie l'orgoglio. Ci deriva dal fatto che abbiamo ricavato sempre un certo margine che siamo riusciti a ottenere vendendo i biglietti, chiaramente. Certo. Paghiamo anche noi, io personalmente ho comprato sei biglietti pur organizzando, noi paghiamo sempre, siamo volontari in questo senso anche. Poi dopo daremo anche, come diceva Mike, buongiorno, i raguagli per i biglietti e tutto. Allora, in scena con Andrea Binetti che è anche regista. Sì, 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 diciamo sono un po' il burattinaio, no? Il mangiafuoco della situazione. Il mangiafuoco non è male, è perché hai anche l'età ormai. Eh beh, ormai sì, caro. Ahimè. Eh beh, sì, ci corriamo dietro. Allora, ci saranno Marzia Postogna, Stefania Seculin e Leonardo Zanier, quindi qui è già... Età diverse. Chi? Età diverse. Soprattutto la Seculin è giovanissimo, diciamo è più giovane. Non ho detto niente, adesso non farmi fare gaff che non lo fa, per una volta tanto che non... Che vero che non ti stupi, io ti provo con tutti i costi. Allora, vabbè. Questo è lo spirito, comunque siamo vicini alle feste, no? Ma anche la Postogna ha un'età diversa, quindi ha anche fatto una... Sì, 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 vabbè. Comunque vabbò. Questo è lo spirito che poi a mezzanotte viene fuori, che piace tanto anche. Il problema è che io faccio gaff a tutte le ore, non solo a mezzanotte, quindi questo è... Ma infatti Umberto piace per questo. Allora, con questi, diciamo, intrattenitori sul palco, insomma, è facile intuire, diciamo così, i generi che ci saranno. Cioè l'operetta, il musical con Stefania, il zaniera, lo swing, eccetera, e Postogna è un po' più specializzata in musiche, come potremmo dire, anche romantiche, insomma. La Postogna infatti va dal romanticismo addirittura classico dell'opera, anche dell'operetta, perché addirittura devo dire che la Postogna, con grande maestria, ovviamente senza volere strafare, ma farà anche un omaggio a Maria Callas, di cui quest'anno appunto abbiamo il centenario, cioè quindi abbiamo uno degli anniversari importanti e quindi sarà uno dei momenti dello spettacolo. Quello che mi preme ricordare è che oltre agli artisti che hai nominato ci saranno anche due gruppi di danzatori. Ah, sì? Sì, il gruppo del flamenco, diretto dalla bravissima Elisabetta Romanelli, e poi avremo invece un gruppo di quattro professionisti, di quattro ballerini, che ormai il pubblico triestino da un paio d'anni è anche abituato a vedere perché fanno parte del corpo di ballo dell'operetta, delle produzioni che facciamo appunto ogni estate con l'associazione dell'operetta, diretti da Noemi Gaggi, e quindi abbiamo il gruppo del Metropolitan e del Movartex, che è l'altra accademia che fa capo a Gorizia. Ma la Gaggi è quella anche del gruppo di Disney? Anche lei, sì. Sta meglio, sì? Sì, sì, sì. Non ha più le stampelle? No, 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 tutto bene, tutto bene. Ah, buono, perfetto. No, quella era un'altra. Ah, era un'altra? No, perché siccome questo Disney ormai è trasversale su varie produzioni, quest'anno appunto è l'anno, è un altro centenario, il centenario della nascita di Camosi Studios, e quindi insomma ci sono vari spettacoli dedicati al mondo Disney. Ragazzi giovani, due ragazzi, due ragazzi. Beati lori. Giovani, molto belli, molto belle, quindi anche l'occhio fa la differenza. Non li ho visti tutti, hai detto solo. Eh no, vi assicuro, vi assicuro. E lì come li integri? Cioè fanno una roba a parte oppure dentro si integrano? I corpi di ballo si integrano, non soltanto, ovviamente loro si esiliranno in numeri specifici loro, proprio cioè ognuno sul proprio versante è inerente alle proprie discipline, diciamo, artistiche, ma addirittura si fonderanno fra loro anche in un paio di numeri e dopo andranno anche ad integrare, quindi a fare da corollario, proprio a dei numeri di canto o anche di prosa, perché non voglio svegliare niente, che si alterneranno nei vari momenti della serata e dello spettacolo. Io, come tu sai, io sono sempre affascinato da come si scelgono i repertori, da come si scelgono i programmi poi di queste serate. Immagino che ci sia, come dire, avete anche degli obblighi per certi aspetti, no? Cioè la gente determinate cose in determinati periodi dell'anno le chiede e immagino che è un po' anche vecosti per certi aspetti. Se posso levarti o rincuadarti non faremo Over the Rainbow. Di questo vi ringrazio perché... Però comincio ad avere un po'... Ma lo stiamo preparando per un altro importante avvenimento. Però comincio ad avere un po' di nostalgia, devo dire la verità, perché ormai a me non piace Over the Rainbow, una canzone... No, perché canta tutti e quindi non ne posso più. E allora tutti quanti mi dicono sempre no, per farti un piacere non faremo Over the Rainbow, non faremo... Adesso un po' di nostalgia ce l'ho, ecco, insomma. Il nostro amico Lupatelli è testimone di questa importante affermazione, quindi adesso preparati al peggio. Faremo un omaggio al cittadino. A me piace molto a mezzanotte il brindisi della traviata. Ah sì, lo sto chiedendo da tempo, vediamo se... L'avamo già fatto e poi quello è un must, un classico. Ecco, ma voglio dire, qui... Allora, qua non c'è però il repertorio natalizio, ecco, diciamo, oppure lo mettete comunque... No, in realtà quest'anno faremo un viaggio, proprio un viaggio ovviamente musicale in tutto il mondo, quindi toccheremo dal Sud America, varie parti dell'Europa, alla Cina, al Giappone, quindi un viaggio, un viaggio in musica affrontando varie discipline, varie culture, soprattutto le musiche di tutto il mondo che sono meravigliose. Ovviamente tutto legato alla festa, al tema della festa, del brindisi e dell'anno nuovo che sta per arrivare appunto. Che poi la cosa divertente è che è paese, veramente è paese che va ai tradizioni musicali che trovi, perché ci sono dei brani che in un paese significano una cosa e in un paese significa un'altra. Per esempio, uno dei brani più caratteristici, quantomeno per quanto riguarda la tradizione anglosassone dell'ultimo dell'anno, è il Balzer delle Candele. Assolutamente. Che ha un nome che non riesco mai a pronunciare, old, old, shine, una roba di questo genere. Che però in altri paesi ha un significato completamente diverso, lo cantano i funerali. Assolutamente. Quindi è bisogna stare attenti. Non è il caso nostro. È bisogna stare attenti anche a questo. È come il fiore, lo tipico, il crisantemo, che per noi è il fiore legato soprattutto al dispiacere della dipartita, e invece in Giappone non solo, è un fiore che anzi porta bene. Ma ti dirò di più che ci sono anche molte differenze, ad esempio, addirittura in Italia, fra regione e regione. A questo non so più. Una cosa, ad esempio, classicissima, l'Ave Maria di Schubert, che ho cantato tantissime volte, agli innumerevoli matrimoni a cui ho partecipato, ma ad esempio è una cosa che nel sud Italia non si può fare. Perché mi dicevi qualcosa? Certo, perché in realtà Schubert, noi per tradizione l'abbiamo portata nella liturgia, e quindi in un discorso appunto legato alla Chiesa, e quindi a un momento sacro, ma in realtà è una canzone non sacra che Schubert scrisse per la sua compagna, in tedesco, tra l'altro. In tedesco? In tedesco, per cui in moltissime chiese io ho avuto difficoltà, soprattutto nel centro-sud Italia, a poterla cantare. Ma qui, per dire. Adesso mi ricordavo... Sì, sì. Insomma, dovete... Stare molto attenti. Non avete pazza, insomma. No, non abbiamo pazza. Neanche lì. Neanche lì. Neanche lì. Lopatelli, questo è un service, fondamentalmente, no? Lo considero un service e una raccolta fondi, nel senso che il service è inteso come valore aggiunto per la città e per le persone che partecipano. Raccolta fondi perché, come ogni anno, speriamo di avere un ricavo che poi destiniamo a un service in favore delle Unite le Racecchi o di qualche altra richiesta che ci è stata fatta. Dipenderà anche dall'entità. Speriamo di... Lo scorso anno non abbiamo potuto fare il rinfresco, abbiamo perso degli spettatori affezionatissimi e quest'anno siamo al Teatro Mela, quindi siamo in grado di fare il rinfresco, che è una delle cose più belle, perché puntiamo molto alla socializzazione, allo stare insieme e a far sentire le persone a loro agio all'ultimo dell'anno. Voi siete anche... un punto di... come dire, un punto di... c'è questa bruttissima locuzione giornalistica, ma vi si deve ricorrere, perché questo è un punto di vista privilegiato, per capire anche quanto questa città che viene... no, che si descrive, che si disegna come una città chiusa, piuttosto dura, eccetera, poi in realtà sì è una città estremamente generosa, solo che giustamente non lo racconta in giro, ecco, insomma, non... Un po' non lo racconta, un po' bisogna stimolarla, che siamo un pochino, come dire, non vogliamo esporci, no? Sì. Come abitudine ti restina, e quindi nel momento in cui c'è, vengono sollecitati, ci sono le situazioni favorevoli, le persone rispondono, rispondono molto bene, quindi questo è certo di... Sì, bisogna toccare... Sai proprio nella natura, credo, del triestino, quello di avere una sorta di misura e di pudore in questo senso, no? Sì, pudore, ecco, il termine giusto è pudore. Sì, vero. Sì. Poi in realtà invece... No, no, perché poi me lo raccontano tutti quanti, a livelli più differenti, insomma, no? Parlando di disponibilità, approfitto per ringraziare anche chi ci dà un piccolo contributo. Come no? Posso farlo? Ma certo. Quindi devo ringraziare la Banca Mediolanum, la Copernico, che sono consulenti finanziari, e Tecnofoil, che è una nuova realtà, che lavora nell'ambito della stampa a caldo, a freddo, a tutta la filiera, dalla produzione alla realizzazione. E si danno il piccolo contributo, che ci consente di avere un margine migliore, chiaramente. Volevo sempre sui repertori, Andrea, che... Io ho una domanda che molto spesso faccio ai tuoi colleghi, soprattutto ai musicisti, non tanto ai cari. Però, insomma, immagino che, soprattutto in questo tipo di spettacolo, io torno sempre sulla stessa, si vede che sto invecchiando, ma comunque, ci sono dei brani che entrano ed escono dalle mode, no? Oppure dei brani rifugio, nel senso dove dice, vabbè, noi mettiamo questo e siamo sicuri che la gente piace, scateniamo... Credo che per esperienza di noi tutti in realtà, le cose belle, le cose che arrivano al cuore, le cose che sono immediate, che sono soprattutto comprensibili, e che creano emozioni, che quindi diventano belle, funzionano sempre. Sono quelle senza tempo, secondo me. vanno bene per tutte le stagioni, come dice. Dopo è evidente che per lo spettacolo di Capodanno uno deve fare una scrematura, punta soprattutto sulle cose di qualità, ma famose, che piacciano, che abbiano un brio, il giusto brio, o che tocchino proprio quelle corde del sentimento, dell'emotività, perché funzionano per la serata di Capodanno. Perché è evidente che lo scopo di questa serata è quella che la gente vada via a cuor leggero, vada via contento, vada via veramente avendo vissuto tre ore di leggerezza, nel senso bello della cosa, perché quanto mai in questo periodo storico abbiamo tutti assolutamente bisogno. Ed è proprio perché si festeggia l'arrivo del nuovo anno che si vuole regalare gioia, allegria e leggerezza. Poi anche la formula di questo spettacolo è una formula che devo dire con l'ingegnere Lupatelli, con l'amico Ugo, abbiamo già sperimentato da diversi anni e funziona. È proprio quella che noi abbiamo più di vent'anni, tutti noi, vivevamo la televisione così. Oggi proprio, è vero, è vero, però ho detto vent'anni, io ho detto vent'anni, ho detto vent'anni, è un argomento che l'ho toccato. Vi ricordate come si aspettavano i grandi show del sabato sera, i famosi show contenitore, dove c'era appunto un'alternanza di quadri di ballo, di numeri di canto, di numeri di recitazione, di numeri di goliardia, c'era un po' di tutto. Quello che abbiamo riproposto con l'arrivo di Andrea come regia, perché i primi anni non avevamo il piacere della collaborazione, la formula era diversa, però questa è molto più valida. La formula dei primi anni era una parte di prosa prima della mezzanotte, poi una parte diciamo lirica e una parte di canzoni. In realtà poi anche su richiesta degli spettatori e poi approfittando di andare a vedere è meglio fare una varietà e abbiamo tutti una nostalgia della gran varietà e quindi ed è questo, ci troviamo noi alle due di notte noi ma anche gli spettatori a non aver capito che ci sono già le due di notte perché è talmente così brioso il tutto che ci si trova Sì, poi diventa non è monotono noi diciamo poi soprattutto si accontenta un po' tutti tutti, no? Ma c'è tutti i generi. C'è un filo rosso questo del viaggio mi pare di aver capito? Il viaggio ed è un circuito che parterà in questo caso dalla Cina per arrivare ovviamente all'Italia faremo anche un omaggio a Trieste Quindi la via della setta voi non l'avete? No, ma è una Cina è una Cina da operetta Ah, vabbè ho capito È una Cina è una Cina da operetta l'avete già capito? Cincillare? Cincillare insomma Sì tanto la prepariamo perché tra l'altro fra nel 25 saranno i centenni del sarà il centenario del debutto quindi posso già anticipare che sarà una delle produzioni che permette mettere in campo Ogni anno c'è un avversario c'è un avversario tondo Noi lavoriamo di centenari Prossimo anno è calma non mi parli faremo la contessa Marisa Mi permetto di inserirmi per dire che non abbiamo ancora nominato l'associazione internazionale dell'operetta perché quest'anno abbiamo anche la loro collaborazione e quindi devo ringraziarli è importante la collaborazione Beh, se c'è lui è già un Sì, sì ma in realtà quasi tutti gli artisti gravitano più o meno anche nell'ambito dell'associazione ringraziamo ovviamente Rossana Poletti che si dà tanto da fare anche lei come sempre La Seculin senti cosa fa? Eh, la Seculin farà dalle canzoni al musical e poi la Seculin come la Postogna basta che non facciano niente si mettono là uno le guarda e è già contento perché sono due belle signore Sì, ci dico sono due belle ragazze oggi guarda che hai una Ragazze, ragazze ragazze, signore insomma No, no non passa mica solo per me e per te Ma per le signore non si deve dire Due signori due ragazze due ragazze poi se in su un crinale è difficile infatti sicuramente mi chiamano saluta lei se ti chiamano saluta lei se posso aggiungere questo me l'ha detto la Noemi che è la maestra di danza uno dei ragazzi che non ho ancora visto è talmente bello che quando lui entra in scena si bloccano tutti tutti tacciono ad ammirarlo non l'abbiamo io l'ho ancora visto sono due bellissimi tu due uno dei due poi è veramente bellissimo ed è campione nazionale di danza acrobatica latina ah latina lui è di origine slovena ma di una bellezza di una bravura incredibile c'è un'aspetto di trotto io non ho mai visto uno che salta si muove c'è tu lo vedi a destra un secondo dopo è a sinistra fa pirouette fa di tutto e avrà un gemelli questa è carina segnavo vedi hai sbagliato il mestiere ti ho sempre detto io ma vedrai che prima o dopo prima o dopo o tra l'altro possiamo anche possiamo anche accennare di sfuggita ne abbiamo parlato la scorsa settimana però insomma diciamo che invece tre giorni prima cioè il 28 giovedì 28 c'è anche l'appuntamento con il Gran Galà dell'Operetta che insomma credo lo stiate già provando sì sì siamo in prova siamo in prova tu farai qualcosa vero? ci sarai? devo se non ci sono anzi sono devo dire la verità sono un po' adesso dovrò perché c'è qualcosa nel dépliant che non mi va genio eh no e quindi dovrò lo farò presente a chi a chi di doverà come si diceva a chi di doverà perché c'è una cosa che non mi che non mi ma comunque ma potete di dare il premio soprattutto quest'anno ma lo si sa ad Armando Ariostini che è stato una proprio delle colonne dell'Operetta in Italia e degli anni d'oro del nostro festival qui a Trieste un barito uno straordinario forse il conte Danilo della Vedova Allegra per eccellenza in assoluto poi ti chiedo ancora una cosa su queste cose invece è possibile tracciare una sorta di bilancio anche così insomma dell'attività del Lions Club Trieste questo è Trieste Ost se non mi sbaglio per quanto riguarda il 2023 forse immagino che voi fate i bilanci però noi facciamo dal 1 luglio al 3 giugno ma sostanzialmente comunque citerei solo le cose più importanti che stiamo facendo stiamo riproponendo e lo faremo in aprile una manifestazione di sport con associazioni di ragazzi disabili che si chiama Sportin abbiamo fatto la prima edizione nel 2023 e la ripetiamo ampliandola facendo partecipare un certo numero di discipline sportive con l'obiettivo sia di dare un momento di di allegria di gioia per questi ragazzi tra cui ad esempio cito Matteo Parenzan che è campione mondiale di ping pong ampiamente conosciuto noto ma poi abbiamo la boccia il baskin che è la palacanestro e così via ci sono varie varie tipologie e è andata molto bene quest'anno la ripetiamo e aggiungeremo anche una parte di conferenza in modo da da spiegare anche che cosa si anche per far capire a molte famiglie che possono avere difficoltà a far partecipare il proprio figlio disabile che in realtà è una grande opportunità che loro danno al proprio figlio di avere una gratificazione un cambiamento di vita un'impostazione di vita e quindi questo ci fa molto piacere poi è anche bello che lo sport e anche la musica anche l'arte poi vengano ma neanche a dire vengano in conto cioè siano a disposizione forse il termine più corretto questo è un ambito il Lions devo dire noi abbiamo un vantaggio svantaggio nel senso che abbiamo persone che sono competenti in tanti settori e quindi di abitudine facciamo tante attività in settori diversi poi molte volte tra di noi ci si dice ma non siamo conosciuti le persone non sanno chi siamo cosa facciamo certo non abbiamo un'identità precisa perché ci muoviamo un po' dappertutto se fossimo la croce rossa chiaramente la croce rossa si sa cosa fa i Lions non si sa bene cosa fa facciamo tante cose in quest'ultimo periodo stiamo mettendo all'accento anche su questa parte del sport disabilità in collaborazione con il Panatron collaborazione molto bella e probabilmente faremo un'altra collaborazione con il Panatron che riguarda un altro sport sempre nell'ambito della disabilità che si chiama sitting volley cioè pallavolo educata da seduti per terra cioè non si può alzarsi alzare e sedere da terra a neanche tipo con e quindi un tipo di sport molto molto inclusivo mira appunto a collaborare sia persone disabili che non e probabilmente lo faremo insieme al Panatron che sarà una manifestazione internazionale perché coinvolgeremo anche squadre questo prossimo anno nel 2024 nel 2024 anche per il 2023 è vero è vero no volevo chiederti Andrea una cosa che mi è che mi è venuta in mente assistendo cos'è due due settimane fa al flauto magico non so se tu l'hai visto eccetera io ho un rapporto non buono con il con il flauto magico dipende da scuola ma è inutile che mi soffermo su questo però c'era il l'interprete di papagheno Vincenzo brevissimo ecco volevo arrivare a proprio Vincenzo Nizzardo lì noi abbiamo visto che proprio allora posto che si può immaginare che il flauto magico essendo un zingspiel possa essere anche una sorta di antenato dell'operetta adesso vado un po' ma è un'operetta in fondo ha le stesse caratteristiche se vogliamo si si alterna il canto alla recitazione viceversa volevo arrivare proprio a questo nel senso che questo questo interprete di di papagheno che poi io ho visto insomma lui è bravissimo è bravissimo e ha i tempi e ha i tempi comici ma si tra l'altro lui è uno che ha navigato anche non molto ma nell'operetta io e lui ad esempio abbiamo fatto un'edizione di Vedo Vallegra a Sassari è stato un grande successo perché ci siamo incontrati qui al Verdi più volte quindi uno di quei cantanti ma sai al cantante lirico di oggi deve per forza essere diverso dal cantante lirico di un tempo dove magari una volta era importante solo la vocalità oggi in un mondo dove tutto è veloce dove tutto dove c'è abituato al cinema alla televisione il cantante lirico non basta che abbia la voce deve avere anche il gesto deve sapersi muovere saper recitare cioè deve essere un cantante che recita quello che notavo appunto di lui assieme anche ad altre persone del pubblico era proprio questo suo avere anche i tempi comici e sappiamo benissimo che i tempi comici è una delle cose più difficili da imparare ma più belle anche immagino da gestire intanto bisogna dire che lui proprio per sua natura affronta anche nella lirica i ruoli del baritono brillante quindi tutti i ruoli appunto legati alla comicità però ha fatto un Don Giovanni lui ha fatto sì ha fatto un Don Giovanni che ha debuttato proprio quest'anno benissimo con un ruolo serio ma lui arriva se no da altri ruoli insomma è fatto anche mi pare il Gobo di Notre Dame se non mi sbaglio non mi sembra ma insomma diciamo che lui è proprio un baritono brillante così si dice appunto quei baritoni legati a quella comicità ma poi ha una natura facile sai poi queste cose o le hai o non le hai anche di natura ecco allora si vede questo è l'altro discorso quando un artista è costruito per quanto bravo e quando oltre che essere bravo c'è la propria di natura e questa fa la differenza è proprio una se lo vedi digli che un tuo amico che non ama il flauto magico per tutta una serie di cose lo ha trovato irresistibile facciamo entrambi papagheno perché anche io faccio papagheno nelle versioni in italiano che stiamo facendo sempre al Verdi quella che ho scritto che riprenderemo da gennaio fino a febbraio quindi c'è un doppio flauto magico il Teatro Verdi uno in tedesco ci non basta uno quest'anno due Teatro Verdi due devo dire due produzioni sempre piene quindi bisogna dire che la gente sta tornando di nuovo a teatro la gente ha tanta voglia di teatro tanta voglia di stare fuori come diceva anche appunto Ugo prima tanta voglia di stare assieme di socializzare questa è la bellezza c'è stato un qualche servizio televisivo forse fatto anche da voi dove si diceva tra i regali natalizi sta prendendo piede anche il regalo dell'ultimo dell'anno del biglietto del biglietto dell'ultimo dell'anno è questo sì 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 adesso poi lo facciamo vedere già che ci siamo siamo già in chiusura tra l'altro allora i biglietti con la prenotazione del posto chiedo scusa si possono acquistare chiedo scusa si possono acquistare al ticket point di galleria Rossoni sì in corso Italia 9 chiamando anche lo 040 3498 276 anche la sera prima anche la sera quindi insomma anche la sera stessa c'è la cassa anche la sera al teatro Mela quindi sappiate che magari se non vi lasciamo fuori ecco se non riuscite ad acquistare il biglietto potete farlo anche prima di arrivare al teatro e la diciamolo anche insomma che il biglietto comprende anche poi la la consumazione il fresco il fresco che viene fatto in bicchieri di cristallo ci sarà la pietorina del sommelier per tenere il bicchiere insomma c'è un certo stile è meglio poi potete anche brindare con binetti e saccoline e vale la pena ne faremo delle belle e ricordatevi anche l'appuntamento del 28 dicembre alle 20 e 30 con il Grand Internazionale dell'Operetta qui invece il concerto inizia alle 21 e 30 per arrivare anche si chiama Applausi del 2024 perché brindiamo all'arrivo del nuovo anno allora grazie a Ugo Lupatelli e ad Andrea Binetti buon lavoro ad entrambi pubblicità e poi cambiamo argomento sull'arrivo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È vero che una volta il Natale, cinematograficamente parlando, era il momento della commedia. Il cine panettone. Il cine panettone. Sui cine panettoni si è detto di tutto e di più, probabilmente fra una quarantina d'anni, se ci sarà bisogno di analizzare gli anni 2000, forse il cine panettone sarà uno degli strumenti che sarà a nostra disposizione. Non lo so, ma posso... Perché sono passati adesso 40 anni. Però ecco, non necessariamente un film per farti star bene deve essere per forza una commedia o un film comico. No, io vorrei fare proprio l'esempio di un bel film di quest'anno, che non è una favola, ma che è Barbie. Barbie è pieno di contenuti di tipo filosofico, serio, che fa pensare, per cui non è sicuramente un film dedicato esclusivamente ai bambini, ma direi anche ai genitori, anche ai nonni. Ecco, e invece il concetto di film per bambino, cui magari la mia generazione, credo anche la sua, era abituato, forse alla lunga poteva fare, non voglio dire danni, però certi film che vogliono darti la lezione, didattici, aiutano o poi alla lunga non maturano, non fanno maturare le persone, perché chiaramente la nostra capacità di adattarci, vuol dire esporci ai problemi, alle difficoltà, e dobbiamo abituarci a questo, non che tutto sia edulcorato, che siamo messi sotto un cristallo che ci impedisce di comunicare e di stare insieme alle persone. Ecco, però volevo dire che dal punto di vista neuroscientifico, noi sappiamo perché il frequentare amici, l'assistere a cose belle, si diceva che il teatro a Trieste, di grande spolvero, ma anche il cinema adesso, perché dal punto di vista epigenetico, queste esperienze positive, belle, di festa, non fanno altro che accendere quelli che sono i geni positivi, quelli che quindi modificano in senso positivo il nostro stile di vita. E lei legge anche il fatto che si sia tornati così prepotentemente a teatro e anche al cinema, nonostante poi l'offerta cinematografica che noi abbiamo a disposizione ogni giorno sia quintuplicata con le piattaforme, con tutte queste cose qua, sì, è addirittura terribile, però lei la legge anche in questo senso, Cioè dopo i due anni, dopo il periodo della pandemia, dove proprio questo tipo di manifestazioni sociali ci era impedito, c'è questo desiderio. C'è questo bisogno. Ecco, forse è più bisogno che desiderio. È un bisogno che andava soddisfatto, perché tra i nostri bisogni essenziali è proprio quello di stare bene insieme agli altri. E questo è quello di cui vengono accusate le dipendenze tecnologiche. Che il fatto che il bambino, fino al bambino, si limiti soltanto a guardare il telefonino e basta, è preoccupante perché non riescono a sviluppare quello che è la comunicazione interpersonale, che è fatta di esperienza diretta. Devo dire la verità, a me un po' terrorizza quando sento qualcuno che conosco dire mio figlio a due anni già accende il tablet e fa... Ma andrebbe bene se ci fosse quello, ma non è solo quello. Sì, 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 perché appunto il problema è... Invece si limita soltanto a quello e allora manca il contatto diretto. Addirittura si è visto a livello di risonanza magnetica nucleare il fatto che il lobulo parietale inferiore sinistro che serve per il linguaggio, la comunicazione, è sottosviluppato nei bambini che comunicano con gli altri soltanto attraverso le piattaforme, eccetera. Ma... Mancano gli organi di senso. È una mia idea o il fatto che noi avevamo meno cose a disposizione aguzzava di più la nostra fantasia? Certo, dobbiamo giocare anche, mi ricordo, con i cosi, con i tappini della Coca-Cola, della birra, no? Io usavo costruire delle case con i libri dell'enciclopedia dei ragazzi di mia mamma, che erano potentissimi, e poi mettevo in scena la storia dei tre porcellini e mi divertivo tantissimo a buttarle giù. Ecco, sicuramente è più produttivo che avere a disposizione il meccano, ci ricorda il meccano? Come no? Beh, quello però io ci sono arrivato dopo e costruivo, eccetera. Anche i trenini elettrici, per esempio, era bello, no? Sì. Fare i plastici. Perché, ecco, per esempio, non so, perché se tu vuoi far contento un ragazzino, gli regali un trenino, che sia anche un treno proprio per bambini piccoli, quindi insomma di quei... Perché il trenino rappresenta, a tutte le età, un giocattolo piacevolissimo, eccetera? Sì, perché ricorda un po' anche in America c'è l'On the Road, no? C'è i veri film, gli americani godono tantissimo di fare questa cosa. E così anche il fare viaggi è sempre una cosa piacevole. Però purtroppo il trenino elettrico è stato messo un po' da parte. Infatti, infatti, ce ne sono. La generazione Z. Ce ne sono molto. Ieri, a proposito, lei sa che io dirico la sezione medicina del Circo della Cultura delle Arti, ho fatto parlare il dottor Garonna, che è il direttore di un centro psichiatrico in Veneto, che ha fatto parlare dei bisogni insoddisfatti della generazione Z. E questi bisogni insoddisfatti si traducono nelle violenze, nelle baby gang, nella dipendenza appunto dal cellulare. E adesso che mi sto occupando anche della paura che c'è in giro sull'intelligenza artificiale, questo anche emerge. Però non dobbiamo avere tanta paura. La paura molto spesso è legata all'ignoranza. Non sappiamo in cosa consiste effettivamente l'attuale intelligenza, la quale non è sicuramente dotata né di coscienza né di autoconsapevolezza. Ma la cosa fondamentale di cui non sarà mai dotata sono degli organi di senso. Ne abbiamo cinque organi di senso che abbiamo noi. Dicono che le donne hanno un sesto senso addirittura. Ma comunque il computer non ce l'ha. Ma non è strano per esempio che dell'intelligenza artificiale fino a qualche mese fa, insomma, si parlava come se fosse una sorta di manna che arriva dal cielo. Da un po' di tempo a questa parte c'è stato proprio una sorta di rovesciamento di fronte, adesso viene vista anche come un pericolo. Beh, in realtà c'è stato uno sviluppo tecnologico rapidissimo. Sì, questo è anche vero. Che nessuno poteva nemmeno immaginare. Veramente da un anno all'altro è incredibile. Sì, questo è anche vero. Adesso sto leggendo anche qualche cosa sulla fisica quantistica. Una volta che avremo il cervello quantistico, quantico, sarà ancora più. Però ripeto, quello che noi rischiamo potremmo diventare schiavi di una superintelligenza, che però ci chiederà di vedere noi se quella rosa, se quel fiore è veramente una rosa, perché noi sentiamo il profumo, perché noi vediamo il colore, perché noi vediamo la storia di quel fiore. Ma la possiamo vedere solo noi. Sì, dobbiamo dare queste informazioni alla intelligenza. Per tornare un po' al media dal quale siamo partiti, sarà curioso vedere poi anche come il cinema si divertirà a raccontare l'intelligenza artificiale, essendo esso il cinema, come dire, uno dei campi in cui l'intelligenza artificiale avrà probabilmente un'importanza piuttosto notevole. Un esempio di intelligenza artificiale l'ho vista ieri, non so se lei ha visto l'ultimo film di Indiana Jones. No, per fare una battuta, una volta io ho detto, e chiedo scusa perché è una battuta un po' tremenda, ma tipo se devo andare in un cronicario non vado a vedere, ho un po' di paura. Quindi la novità tecnologica è che fanno vedere Harrison Ford che ha superato gli 80 anni, nella prima mezz'ora, che è ambientata con gli nazisti, eccetera, gli mettono un viso di giovane. E lei non se ne accorge di questo. Ci si accorge dei movimenti? No, vi assicuro che non ce ne è. Perché per esempio anni fa, in quel film, secondo me è bello, ma dalla durata monster di Martin Scorsese, di Irishman, dove veniva utilizzato più o meno lo stesso procedimento, l'impressione era piuttosto straniante perché agivano sulle facce, ma i movimenti dei corpi di Pacino e De Niro erano comunque movimenti di gente di over 70. Quindi qui si vede che probabilmente poi è in pochissimi anni perché a Irishman parliamo del 2019, insomma in pochissimo tempo. In 3-4 anni le cose sono cambiate incredibilmente. Volevo tornare su quello a cui lei aveva accennato un attimo perché è una cosa che mi interessa moltissimo, nel senso che io appartengo, insomma a me piace anche rivedere dei film, ci sono dei film che io rivedo, diciamo, anche una volta all'anno per dire la verità, per tutta una serie. Quale per esempio? Ma per esempio uno dei miei must e prima pagina di Billy Wilder, ma insomma l'ordine anche per questioni, se vuole, di deformazione professionale. Poi ogni tanto vedo un piccolo gioiello che si chiama Invito a cena con delitto ed altri film, Casablanca è uno su cui torno molto volentieri, i soliti gnoti, insomma ognuno penso che ha un proprio empireo. E ogni volta scopre delle cose nuove. Sì, anche, anche. Mi domando, oppure c'è uno invece che mi fa dannare, ogni volta che lo vedo è il film di Hitchcock, Il delitto perfetto, dove c'è la storia della chiave, io ogni volta dico, adesso sto attento perché so dove va a finire, però ogni volta vengo buggerato perché c'è un momento in cui si vede che la mia... Però ecco, per quanto meno, perché a noi comunque piace rivedere determinati film? Io in questo caso, come dire, lo storico del cinema esce di scena, nel senso, perché a me come persona piace vedere... Perché abbiamo interesse, per esempio, verso i prestigiatori. Ieri, per esempio, a una festa, la festa c'era di Natale, hanno organizzato e hanno fatto fare uno spettacolino, c'è un circolo magico. Come no, come no. Lo conosce? Lo conosco perché un mio compagno di classe, che tra l'altro è chirurgo, Stefano Martinolli, per un certo periodo di tempo ne fu presidente, adesso credo fa parte comunque del direttivo. E quindi quello che noi andavamo, cercavamo di carpire qual era il segreto, però un bambino di otto anni lo ha sgamato. Lo ha sgamato e ha tirato fuori la carta. Ah, però. Che pescava, sì. E dopo se l'ha messo in tasca e dopo la mostrava a tutti perché era riuscito. E il prestigiatore ha dovuto ammettere, dice, questo bambino mi ha sgamato. Ma a noi piace anche dunque essere un po', come in questo caso, presi in giro, se noi accettiamo questo. La persona veramente intelligente è una persona autoironica, una persona che riesce a prendersi in giro. Questa è una dimostrazione di grande intelligenza, di grande cultura. Già che ci siamo, l'autoironia fa parte del carattere, la si impara? Sì, io direi che fa parte sia del temperamento che del carattere. Lei sa che la personalità fa del temperamento e del carattere. Il temperamento è la parte nostra innata, che sicuramente ci mostra più introversi o più estroversi, da questo punto di vista. Ma la parte invece caratteriale è la parte legata all'educazione, alla scuola, alla famiglia e così via. Quindi penso che si possa anche apprendere l'autoironia, come si apprende l'empatia. Si credeva che l'empatia, quando uno riesce a instaurare un ottimo rapporto interpersonale, fosse un talento innato. Non è vero. L'empatia può essere insegnata addirittura agli studenti della facoltà di medicina. Si è visto che questi studenti al primo anno erano molto empatici, avevano scelto di fare medicina proprio per questo motivo. Poi, durante i sei anni, si tendeva a perdere questa empatia. Lei deve pensare che noi, fin dal primo anno, ci mettono in sala settore. È una cosa incredibile. Cioè, messi subito di fronte, non tanto alla sofferenza, ma addirittura alla morte. Alla morte anche in qualche modo, poi, vi rigorete, anche manipolata per certi aspetti. Manipolata non è il termine corretto, ma comunque poi il corpo viene anche toccato. Perché c'era l'idea, sbagliatissima secondo me, è che l'ospedale di medicina deve farsi un po' di... Sì, sì, ho capito. No? È un po' anche... Sbagliatissimo. Anche per il guardo anche i giornalisti. Per cui si vedeva che meno per le ragazze, a dire la verità, ma più per i ragazzi c'era una diminuzione dell'empatia. Ebbene, si è visto che con dei corsi appositi si recuperava questa empatia. Questo è molto importante. In tutto il mondo, questo processo di riumanizzazione della medicina, che io ho portato anche al CCA, indubbiamente è importantissimo. Un movimento che è fondamentale. Ma in questo caso l'empatia è qualcosa che, come posso dire, funziona a orario? Non so se ho capito. Beh, oddio. È chiaro che se siamo stanchi... Ecco, allora faccio l'esempio della stanchezza. Lei sa che durante il Covid i medici erano degli eroi, gli infermieri altrettanto, però si stancavano tantissimo. Alla fine del turno in tutto il mondo, non so se qui veniva fatto o meno, venivano fatti dei corsi di mindfulness, che erano dei corsi quindi per recuperare, diciamo, quello che era il loro livello anche di empatia, oltre che di professionalità e per togliere quella che era la stanchezza, che non era tanto una stanchezza fisica, ma una stanchezza mentale per ciò che... Cioè, ti ponevi... Pensi a quel medico del pronto soccorso che doveva decidere se ricoverare lei o me. Uno dei due rimaneva, probabilmente moriva. Sì, sì, sì. Il medico doveva scegliere. Quindi è messo di fronte a dei dilemmi etici spaventosi. Secondo lei, a diversi livelli, mi rendo conto anche che la domanda non può avere una risposta univoca e probabilmente forse la domanda è anche un po' sciocca. Ma in ogni caso, no? Noi cerchiamo di, non di dimenticare, ma comunque di, per quanto riguarda appunto il periodo della pandemia, di tenerlo in un... La rimozione. Ecco, di rimozione. Ma per quanto tempo comunque avremo a che fare con gli effetti? Perché è anche un momento in cui, voglio dire, anche senza volerlo, molti ti ricordano quel periodo, no? Nel senso, non c'è conferenza stampa dove non si dica, probabilmente perché è giusto che venga detto, no? No, però non c'è conferenza stampa in cui diceva, ormai siamo usciti dalla pandemia, ormai possiamo ricominciare, ta 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 ta. Anche chi magari ha rimosso il problema, poi di colpo ne viene... È un meccanismo di difesa. Questa è una cosa che le consiglio, magari può trovarlo anche in qualche edicola. I meccanismi di difesa dell'Io, scritti da Anna Freud, da figlia di Simon Freud, ha scritto e ha descritto questa ventina di meccanismi di difesa che appunto sono la rimozione, la negazione, la somatizzazione, la sublimazione, la proiezione, che sono molto importanti perché se vengono continuamente utilizzati e sovrautilizzati, sono alla base di molti sintomi nevrotici. Capito. L'eccesso di rimozione porta all'isteria, per esempio. L'eccesso di proiezione, cioè attribuire quelli che sono i miei sentimenti agli altri, alla mania di persecuzione, alla paranoia, per dire. Sì, sì, sì. La sublimazione ha fatto sì che il chirurgo, che magari aveva degli istinti aggressivi molto forti, li sublima facendo il chirurgo, quindi facendo un atto socialmente molto utile, molto interessante, e socialmente molto stimato e lodato. Ma appunto la società che ci ricorda appunto quello che c'è stato due o tre anni fa, ci aiuta o no? Secondo me sì, perché comunque è un trauma quello che abbiamo subito e soprattutto io credo proprio per i ragazzi che andavano tra i 15 e i 20 anni, frequentavano il liceo, quelli hanno avuto delle conseguenze. Lì molti negavano queste cose. Invece le vediamo, si vedono e come. Io so che adesso, non so se ancora, ma la prossima volta che ho qualcuno dell'università lo chiedo, ma comunque fino a un anno, un anno e mezzo fa, lo sportello psicologico dell'università che era stato a te, era molto utilizzato e questo insomma te la dice lunga su... Sicuramente, però portiamoli di nuovo a teatro, per esempio il fantasma dell'opera è stata una conquista incredibile per tutti, ma anche, mi ripeto, Barbie, il comandante del... E non avrei mai immaginato di mettere il comandante Barbie nella stessa... E' perché ci insegnano molti valori, la generazione Z viene accusata di avere pochi valori, no? Ma la colpa è nostra, è di gli adulti che non gli diamo questi valori. Quali belli esempi diamo noi ai giovani? Beh sì. Parlando del telefonino, e chi è che ne usa, ne abusa di più? Chi è che glielo fa anche, chi è che glielo consegna delle volte anche per tenerli calmi? Già che ci siamo, il cinema può avere questa funzione anche terapeutica, insomma adesso non vorrei utilizzare dei termini sbagliati. Ma didattici sì, sicuramente. Possiamo attribuire anche al libro un valore? Sicuramente sì. Un valore è diversa la probabilmente... Abbiamo però perso un po' l'abitudine, no? Sì. Soprattutto nel libro cartaceo, è molto bello, in quanto gli sfogliari. Come anche il giornale. Io per esempio mi accuso che al mattino, presto già guardo il tablet e leggo il piccolo, il corriere e così via. E questo però è ben diverso che avere in mano il giornale, no? E dei libri ancora di più, no? Adesso vanno in modo a questi e-book che tendono ad essere delle instant book, no? Perché una delle caratteristiche della generazione Z è l'istantaneità. Cioè vogliono tutto e subito. Sì, questo abbiamo... Siamo noi che però abbiamo creato queste cose. Ma il rapporto per esempio che viene a crearsi con il libro, no? Io ho un film, lo vedo, non lo posso toccare. E se toccassi la pellicola, boh, sì, non è che... Tocco probabilmente una parte del... Il libro probabilmente è l'unica opera d'ingegno che io posso, che è a mia disposizione, posso toccare, posso farlo... Anche il vinile però, visto che c'è un grande successo. Sì, è tornato... Perché la gente ha bisogno di avere in mano la copertina, di avere in mano proprio lo stesso disco. Però il vinile se lo tieni in mano lo rovini. Almeno bisogna saperlo maneggiare. Io ne ho rovinati parecchi, per infatti... No, no, io mi guardo bene ne ho rovinati. Io sono uno dei pochi che è favorevole al CD proprio perché... CD che però non vengono più venduti. Non vengono, no, no. Perché adesso la gente si sente tutto... O va su Spotify... Sì, sì, si cambiano dei supporti che sembravano eterni come CD. Finché le macchine di un certo livello, anche di lusso, non hanno più il lettore CD che costerebbe 30-40 euro, non costerebbe niente. Sì, sì, no, no, è vero, è vero. Ma è curioso che quello che veniva propagandato come se fosse indistruttibile, questo te dura tutta la vita, eccetera, quanto è durato? È durato una decina, dieci, quindi vent'anni alla grande. Prima c'erano le musicassette. Le musicassette. Sono cose che... C'è su Facebook, no, la fotografia della musicassetta e della penna Bic e dicevano se sapete qual è il rapporto tra la musicassetta e la penna Bic, appartenete alla generazione di quelli che rifacevano su il nastro quando si incastrava... I baby boomers. I baby boomers. E noi siamo baby boomers. Allora, siamo in chiusura. Almeno siamo riusciti a evitare di parlare di patologia oggi. No, vabbè, ma insomma, devo dire la verità, va a... E' stato il professore che, avendo visto anche il tono della mezz'ora precedente, ha detto no, cambiamo. Cambiamo, cambiamo la scaletta. E facciamo, parliamo di cose più leggere. Che poi chiama anche una cosa anche dal punto di vista, se vogliamo, anche medico, eccetera. La leggerezza. Tanto costa lo stesso, eh. Che lei ha un problema, lo affronti con leggerezza o pesantezza, costa uguale, ma le conseguenze sono terribili. Cioè, il concetto di leggerezza non è poi così leggero come possa sembrare. No, e l'altro concetto importante è la kindness, cioè la gentilezza. La gentilezza. Dobbiamo essere gentili verso noi stessi, che siamo portati bravi, abbiamo fatto tante cose, siamo sacrificati. Non dobbiamo sempre ricorrere gli errori, le colpe, i peccati, le omissioni. Cerchiamo di essere gentili verso noi stessi. Ci vediamo, professore, tra poco meno di un mese, come sempre. E noi con Trieste in diretta invece ci vediamo domani alle 18.00. Arrivederci, buon proseguimento di sera. Arrivederci, buone feste. E buone feste tra noi. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. E buone feste.